Buonasera al popolo di YouTube, come dico sempre, vinci, lo toglie, lo ricominci. Questa presione è stata a colpo, un solo colpo amici miei. Un attimo soltanto. Un solo colpo. Adesso. Ecco qua. Ambo secco, secco sulla nazionale, 7,87, e nella stessa giocata, Ambetto sul Napoli, c'è due numeri su tre ruote, in cui sono state giocate del diametrali, chiaro? Per quelli che masticano l'otto. Ecco, quindi, sortito, Ambo secco sulla nazionale, 7,87, Ambetto al Napoli, 7,88. Andiamo a vedere. Eccolo qua. 7,87 sulla nazionale, 7,88 sulla ruote di Napoli. E sono le previsioni uniche, vedete? Uniche. E' un'è tutto. Cono che vince, non lo deve convincere. Ciao.